Un minuto di silenzio della giunta altoatesina per le vittime del terremoto in Turchia e Siria, una solidarietà non solo formale, ha detto il presidente Compaccia. Abbiamo deciso anche di contribuire, diciamo, non solo in senso morale a questa solidarietà internazionale, ma anche con fatti concreti, acquistando dei pacchetti, diciamo, di sostegno. Gli aiuti saranno veicolati attraverso le organizzazioni di soccorso operative sul campo. Nella riunione odierna si sono poi fatti passi avanti per l'interramento della rete elettrica della Val di Sarco, con lo smantellamento di più di mille tralicci. Ha provato anche un programma per il risanamento dei boschi, flagellati prima dalla tempesta Vaia, poi dal Bostrico. Risanamento anche per la sede del Conservatorio Monteverdi di Bolzano, istituzione statale ospitata da un edificio provinciale. Rimandata a tempi migliori, l'ipotesi di ampliamento per il mancato accordo col comune, proprietario di mobili adiacenti, si è deciso di lavorare sulla cubatura esistente, ha precisato l'assessore Bessone. Faremo una ristrutturazione più lieve, meno impegnativa, ma sicuramente più rapida e sicuramente comunque funzionale. Per la sala concerti e le opere murarie dell'edificio tutelato, la provincia spenderà 10 milioni di euro. I lavori inizieranno nel 2024 e termineranno quattro anni dopo.